Sei un tipo interessante, Scott Lang. Sei un Avenger. Hai una figlia. Ma hai sprecato tanto tempo, come me. Ma a questo possiamo rimediare. Papà! Chi sei tu? Sono l'uomo che può darti quella cosa che desideri. E sarebbe? Tempo. Lui può cambiare l'esistenza. E alterare il tempo. Non puoi fidarti di lui. Non mi interessa chi è. Ho già perso tanto. Bambino! Lui può darci una seconda occasione. Lascia che ti chiarisca le idee. Tu mi darai ciò che voglio. O tutto quello che tu chiami vita, terminerà. È tutta colpa mia. È meglio che lei non veda. Avevamo un accordo. Credevi di vincere. Io non devo vincere. Ma entrambi abbiamo solo da perdere. E mi spiace che sì.